Sì, 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 sì. Sarò nel casale a essi, con dura! Uooooooooh! Gatti, nooo, carini! Io sei tutto! È una buona cosa che mi ha fatto! Mi ha fatto un programma che mi ha fatto un'allargo! No, no. No, no, no! Come la ponte adesso? Eh? Come la ponte adesso? Tu, Marto, tu mi sparo la pure! No, no, tu mi sparo! Noi furbiamo. Fai vedere il un'altra stampa. Fai vedere, non sia il nascita, ha detto qualcosa... Ora, tu sai bene colore. Vabbè, adoro. Voi! Voi. 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 Sono un'amica. Non, non sono un'amica. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti.